Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto Il mistero della fantasia eterna dell'episodio numero 12 La valle priva di fantasia Giunto il giorno dopo dall'incontro tra Patricio e Lauisotl i due amici, il bambino e il Kai Kang entusiasti di riprendere il loro viaggio arrivarono in una zona completamente deserta dove si raccontava che esso rappresentava il triste destino quando una persona adulta abbandonava la fantasia Patricio era totalmente terrorizzato da quel posto tanto che senza esitazione disse al suo amico Iac Amico Kai Kang Non pensavo che essere privi di fantasia significasse apparire come questo posto è così triste e sofferente ma quale creatura della fantasia dobbiamo catturare qui? In questo posto non c'è anima viva Dai cambiamo strada Il Kai Kang rispose Mi dispiace averti deluso Però In questa valle distorta sono certo che esiste una leggendaria statua di un drago dall'immensa creatività che per paura che le sue qualità potessero essere imparate dal prossimo si autotramutò in pietra facendo diventare questa zona la valle priva di fantasia Comunque se tu mi dici che non ti interessa e vuoi proseguire il viaggio per me va bene Patricio sebbene fosse incuriosito dalla statua del drago rispose Interessante questa storia Tuttavia sono ancora convinto che questo posto sia insidioso Perciò desidererei tanto uscire al più presto da questo territorio Il Kai Kang ascoltando con molta attenzione il bambino comprese benissimo il suo stato d'animo Così in breve tempo uscirono dalla valle priva di fantasia facendo ritornare il buon umore a Patricio che felice ringraziò il Kai Kang per averlo aiutato in questa avventura Questo è Patricio di Kai Kang e la valle di Storta Bene Vi ringrazio dall'ascolto Lasciate un like se vi è piaciuto Grazie alla prossima Ciao da Davide Ciao